Se ti alleni già da anni in palestra e quindi puoi considerarti un intermedio e vuoi ottenere i maggiori risultati possibili in quanto ad aumento di massa muscolare, in questo video ti spiegherò quella che secondo me è la split, la suddivisione di allenamento migliore in assoluto per ottenere i maggiori risultati. Per iniziare con questo video mi presento velocemente, io sono Roberto, il coach e il mio lavoro è aiutare gli uomini a mettere massa, a perdere grasso, sono un esperto in ricomposizione corporea e faccio questo lavoro da una vita. In questo canale ti parlo del mio lavoro e della mia esperienza, quindi ti invito ad iscriverti e ad accendere la campanella così da rimanere aggiornato sui prossimi video. Ma iniziamo. Se ti alleni già da anni probabilmente avrai raggiunto già una buona esperienza e saprai sicuramente spingerti sia in termini di intensità e quindi conoscerai bene il tuo corpo e come risponde a determinati stimoli, oltre che avrai anche raggiunto dei volumi di allenamento piuttosto importanti per dare appunto stimoli sempre maggiori al tuo corpo nel corso degli anni. Quindi arrivato a questo punto potresti considerarti un intermedio dell'allenamento in palestra e nel bodybuilding e potresti trovarti a dover ragionare in modo molto molto più attento su quello che è il recupero. Infatti allenarsi ad alta intensità e con volumi comunque piuttosto importanti per forza di cose richiede poi una cura adeguata di quello che sono i tempi di recupero e quindi ragionare su alimentazione, eventuali integratori che possono aiutarti a velocizzare i tempi di ripristino delle strutture muscolari, articolari ovviamente il sonno che è un aspetto assolutamente fondamentale ma anche e soprattutto, ed è il tema di questo video, fare dei ragionamenti su quella che è la suddivisione del tuo allenamento e quindi sulla frequenza con la quale vai a colpire determinati distretti muscolari nell'arco della settimana. Ecco che vediamo quindi quella che a mio giudizio in anni di prove sia su me stesso ma anche su molti clienti ho visto essere la split in assoluto più efficace per portare dei risultati soprattutto appunto quando ci si allena già da un po' di tempo si ha già un po' di esperienza e si vogliono ottimizzare al massimo aspetti come intensità volume ma anche allo stesso tempo il recupero. Di quale split sto parlando? Sto parlando nel dettaglio della push-pull legs. Ho già fatto un video in merito sull'argomento che ti linko qui da qualche parte dove puoi approfondire, lì parlo più nel dettaglio di come funziona, di come può essere impostata e dei vantaggi e degli svantaggi. Ma in questo video mi voglio focalizzare su come utilizzarle e perché utilizzarla appunto ad un livello intermedio per mettere su più massa muscolare possibile. Allora devi considerare che questo tipo di split dove andiamo ad allenare in un giorno i muscoli di spinta, in un giorno i muscoli di tirata, in un giorno le gambe, permette ottimi tempi di recupero tra una seduta e l'altra per i vari distretti. Proviamo a fare un ragionamento. Se nel giorno 1 alleniamo i muscoli di spinta che sono pettorali e tricipiti e nel giorno 2 andiamo, che magari è subito successivo al giorno 1, andiamo ad allenare dorso e bicipiti, potrai renderti conto che effettivamente non c'è un grosso contrasto in termini di gruppi muscolari coinvolti. Quindi nel giorno 2, dedicato alla tirata, potrai allenare il dorso e poi i bicipiti senza avere ripercussioni negative o magari stanchezza o affaticamento dati dal giorno prima. Nel terzo giorno andando a fare gambe, quindi ovviamente questo aspetto è ancora più accentuato. Quindi potrai allenarti anche tre giorni di fila senza avere particolari preoccupazioni, cosa che invece difficilmente avviene con split diverse. allenarsi da intermedi con delle modalità ad esempio in full body o in upper, lower, magari lì ovviamente già meno, ma comunque ti porterà inevitabilmente ad accusare un po' quelli che sono eventuali dolori muscolari o addirittura anche dal punto di vista articolare. Comunque non riuscirai a ottimizzare il tuo singolo allenamento in quanto sarai ancora affaticato da quello del giorno prima. In ottica bodybuilding il recupero muscolare è fondamentale, soprattutto raggiunto un certo livello. Quando riusciamo a mettere sotto tensione in modo ottimale i nostri muscoli, questi richiedono per forza di cose certi tempi di recupero. Tieni conto che mediamente e a livello puramente muscolare servono più o meno dalle 48 alle 72 ore per permettere ad un muscolo di recuperare pienamente e quindi poterlo poi allenare di nuovo. Non stiamo però parlando di tempi di recupero di altre strutture come ad esempio quelle articolari, tendine o del sistema nervoso. Se ragioniamo puramente in termini di fibre muscolari, tieni conto che potrai tornare ad allenare lo stesso distretto dopo circa tre giorni. Quindi ad esempio fai il petto nel giorno 1, nel giorno 4 potresti idealmente già tornare a fornire uno stimolo. E la push pull legs in questo è ottimale, soprattutto quando si hanno magari anche vari impegni nella vita e quindi non è detto che si riesca magari ad impostare in modo assolutamente schematico e preciso una settimana nel modo migliore. Magari si è obbligati ad allenarsi tre volte di file e quindi in questo caso ecco che questo tipo di split offre un grandissimo vantaggio in termini di recupero. Ma attenzione perché tutto questo vale soprattutto se ci si allena più di tre volte alla settimana. Allora non parliamo di monofrequenza e multifrequenza, è un ragionamento che ho anche già affrontato in altri video e che è poco produttivo, poco fertile. Infatti devi sapere che comunque la cosa più importante è raggiungere un determinato numero di set allenanti, quindi di volume, su base settimanale. Quindi potresti comunque ottenere risultati anche allenandoti tre volte alla settimana con una classica push pull legs. Ma per un soggetto intermedio, quantomeno che abbia già un po' di esperienza, la cosa migliore è fare un allenamento, impostare una split su quattro, se non anche, perché no, cinque sedute settimanali. E ragionare in push pull legs in quest'ottica è assolutamente super produttivo in termini di sviluppo muscolare perché riusciamo a dare stimoli efficaci in modo molto mirato in ogni seduta di allenamento e allo stesso tempo riusciamo a dare anche tempi di recupero ottimali prima di tornare ad allenare un determinato distretto. Come ho già detto nel video dove ho spiegato questa split, ci sono dei lati positivi e dei lati negativi. Un lato negativo che possiamo evidenziare proprio in questo contesto relativo proprio alla push pull legs è che in termini di allenamento delle braccia non è forse la scelta migliore in assoluto. Questo come mai? Perché bicipiti e tricipiti sono generalmente relegati a fine seduta e quindi allenati nel momento in cui si hanno forse meno energie da dedicare all'allenamento e quindi probabilmente questo porta poi a delle performance specifiche appunto sulle braccia che sono inferiori a quanto si potrebbe fare ad esempio facendo una seduta dedicata a queste. Ma c'è un modo per ovviare a questo piccolo svantaggio della push pull legs soprattutto appunto se magari sono un tuo gruppo carente potresti ragionare, ed è una cosa che ti consiglio assolutamente di fare su una seconda rotazione quindi se ti alleni 4 o anche 5 volte alla settimana in push pull legs potresti ragionare su una classica push pull legs nei primi 3 giorni e poi impostare una seconda rotazione che andrai a fare consecutivamente dove comunque allenerai muscoli di spinta, di tirata e di gambe ma focalizzandoti su determinati aspetti sui quali vuoi concentrarti come ad esempio fare una rotazione 2 dedicata alla spinta dove puoi partire ad esempio dai tricipiti oppure fare meno esercizi dedicati al petto e così dedicarti con maggior attenzione allo sviluppo e all'allenamento dei tricipiti. Questa può essere un'ottima soluzione su due fronti. Da una parte risolverai questo problema tra virgolette legato a questo tipo di split e quindi potrai focalizzarti sui tuoi punti carenti nel caso appunto le braccia e dall'altra avrai un secondo grande vantaggio che è relativo a quello che è il sovraccarico progressivo. Se ripeti la stessa split ogni volta quindi push pull legs, di nuovo push pull legs avrai poco tempo in realtà di recupero tra una seduta e l'altra per poter migliorare la tua performance in quegli specifici movimenti. Quindi se hai una panca piana il lunedì e di nuovo ti ritrovi a doverla fare il giovedì o il venerdì potrebbe non essere un tempo sufficiente per permetterti magari di aumentare leggermente il carico o fare ad esempio una ripetizione in più. Quindi potresti variare nella seconda rotazione la tipologia di esercizio in modo tale da poter dare al tuo corpo modo di innanzitutto concentrarsi su schemi diversi e in seconda battuta quindi conseguentemente di ricercare un sovraccarico progressivo ad ogni allenamento specifico. Quindi ad esempio tornando alla panca piana dovrai ripetere lo stesso identico movimento non nella seduta di spinta successiva ma in quella dopo. E questo potrebbe darti uno spunto per riuscire ad aumentare il carico che quindi non verrà aumentato ogni settimana ma magari una volta ogni 10 giorni. Il ragionamento sul carico comunque è solo un esempio potresti ragionare ad esempio su una ripetizione in più o un tempo di recupero inferiore eccetera eccetera. Ultimo consiglio che è conseguente comunque a quanto ti ho appena già detto è quello di ricercare costantemente un aumento della performance che può essere fatto da una parte sul carico e dall'altra sulle ripetizioni e questo indipendentemente dal distretto che stai allenando. L'unica variazione che potrebbe essere sensato fare e che ti consiglio di fare è quella di ragionare su diversi range di ripetizione a seconda del distretto. Ad esempio su un gruppo muscolare come i pettorali potresti volerti concentrare su dei range fra le 6 e le 8-10 ripetizioni mentre magari sui bicipiti o i tricipiti o i deltoidi stare più alto fra le 10, 12 e 15. In ogni caso comunque dovrai cercare di o aumentare il carico anche di poco facendo lo stesso numero di ripetizioni oppure eventualmente mantenere con lo stesso carico e fare una ripetizione in più e poi magari la settimana successiva ancora una fino a che ti potrai permettere di aumentare il carico e magari tornare ad inizio del tuo range. Fai questa cosa, segnati tutto di settimana in settimana scriviti i pesi, scriviti le ripetizioni, scriviti le pause se le consideri e le monitori e cerca ogni volta di fare qualcosina in più, qualcosina di meglio. Con questi consigli sono sicuro assolutamente che riuscirai ad ottenere degli ottimi risultati in termini di sviluppo di massa muscolare. Io spero di esserti stato utile ti ricordo come al solito che se non sai come fare in autonomia per migliorare il tuo fisico allora potresti spendere anni e anni facendo delle ricerche su internet magari guardando anche qui qualche video su YouTube ma senza poi ottenere chissà quali risultati oppure potresti investire su te stesso e affidarti a un coach come ad esempio ti segnalo il link alla mia pagina del coaching che trovi qui in descrizione. Bene, io ti ringrazio per essere arrivato fino a qui spero di esserti stato utile fammi sapere se provi questo tipo di strategia come va e ci vediamo al prossimo video.